Ciao, lei è Nespolina, è una cucciola di soli tre mesi e sarà una futura taglia grande. È arrivata da una brutta cascina sempre della zona insieme a una sua sorellina che per fortuna è già stata adottata. Quando è arrivata a rifugio da noi era molto deperita, molto magra ed era piena di zecche quindi abbiamo dovuto pulirla completamente facendo un bagnetto completo e poi abbiamo dovuto darle delle pappe apposta per mettere su un po' di ciccetta. Nespolina è una cagnolina molto carina che purtroppo ne ha viste di tutte perché oltre a provenire da questa brutta cascina è già stata adottata una volta è stata riportata di nuovo in rifugio dopo nemmeno 48 ore perché diciamo sicuramente è stato il capriccio del momento. Sarà una futura taglia grande quindi cerchiamo per lei una casa con giardino in cui possa giocare e sfogarsi. Se volete dare la famiglia giusta e definitiva per il resto della vita di Nespolina chiamateci. La povera Nespolina ha solo tre mesi ma ha già vissuto il peggio delle esperienze. Appena nata è stata rinchiusa in un minuscolo box e poi adottata ma la sua adozione è durata pochissime ore. Cambiare idea in due giorni appunto 48 ore è qualcosa di inaccettabile in un lasso di tempo così minuscolo si può cambiare idea su un paio di scarpe da indossare, su un oggetto da acquistare ma non su un essere vivente. La storia di Nespolina invece evidenzia l'importanza di un'adozione responsabile che richiede impegno e pazienza. Gli animali soprattutto i cuccioli soprattutto poi se con una storia di questo genere alle spalle necessitano di un po' di tempo, di attenzioni per arrivare ad adattarsi alla nostra casa e quindi essere perfettamente a loro agio. Due giorni certamente non sono sufficienti. Date a Nespolina la possibilità di avere una vita felice e appagante. Quindi chiamate al numero 339 6341390 Grazie a tutti!